La qualità dell'aria in Europa e in particolare nelle principali capitali europee ha raggiunto i livelli assolutamente inaccettabili. Il fallimento degli standard europei, Euro 5 ed Euro 6, che non riflette in nessun modo il livello delle reali emissioni su strada, ha fatto in modo che oggi ci troviamo di fronte a un problema di difficile soluzione. I cittadini sono perplessi e i sindaci delle città non hanno degli elementi concreti per poter regolare gli accessi nelle proprie città. Da qui la necessità di creare AIR, Allow Independent Road Testing, un'alleanza not-for-profit che mette insieme i migliori centri di ricerca e istituti universitari europei. La missione di AIR è quella di facilitare l'adozione di un sistema indipendente di valutazione delle emissioni che consenta alle pubbliche amministrazioni di sviluppare politiche sulle mobilità coerenti con gli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria. Altro obiettivo di AIR è quello di far partire una nuova competizione tra i costruttori, non più basata solo su design, performance e sicurezza, ma anche sugli aspetti ecologici dell'emissione. Come FBK abbiamo aderito con molto entusiasmo questa iniziativa AIR. Noi abbiamo molte tecnologie che possono essere molto utili per andare a controllare e a proporre delle soluzioni che possano aiutare a ridurre l'inquinamento. Tecnologie di base come le analisi dei big data, il deep learning, ma anche la sensoristica, tutte queste tecnologie possono essere messe a disposizione di questa alleanza che insieme può dare delle indicazioni super partes ai costruttori che quindi non sono più autoreferenziali, ma si trovano un'iniziativa scientifica alle spalle che gli dà delle indicazioni precise. Grazie a tutti.